Notte da dimenticare sulle strade del Vogherese dove forse a causa del ghiaccio formatosi sul manto stradale, nel giro di poche ore si sono verificati due diversi incidenti che hanno visto tre automobilisti feriti trasportati al pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Attorno alle 5 del mattino un 42enne alla guida di una Golf è uscito di strada in via Tortona nei pressi della rotatoria che mette sulla tangenziale di Voghera. L'auto, per causa in fase di accertamento da parte della polizia stradale, si è capottata finendo ruote all'aria nei campi a lato della carreggiata. Nonostante la violenza dell'impatto, il conducente se la sarebbe cavata senza gravi conseguenze. A loro arrivo i sanitari del 118 lo hanno soccorso e portato in ospedale per accertamenti in codice verde, mentre la polizia stradale, intervenuta con un equipaggio di Vigevano, ha eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Stessa sorte, ma sembra, dai primi accertamenti, con conseguenze più serie per le persone coinvolte, poche ore prima per due giovani donne di 22-38 anni finite fuori strada lungo l'ex statale 10. In loro aiuto sono intervenuti, oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco. Sul posto anche un'ambulanza della Croce Rossa di Voghera e un'auto medica che le ha trasportate in codice di media gravità all'ospedale cittadino.